Hai dei bellissimi occhi Ma chi è lui che suona? Sì, mi sta aspettando, ho già detto che poi ti spiego Te lo sai a chi sei uguale? Ma uguale? Ravazzini Ma come si chiama quel campione delle moto? Non è Ravazzini Guarda che signora è uguale a Brent Rizzo, tanto sta roba quest'ora Ma chi? Brent Rizzo? Siamo al tavolo con Marco Ravazzini, il suo manager, e tu pensi a Zai Copalio non può interferire così su anni 2 Lo passa a me, così gli racconta che razza di delinquente che ha girato la mia vita Ti ho invitato io, intanto offre lui Lui chi? È il cliente dell'hotel Ti hai rubato il portafoglio? Mi hai detto che era l'ultima volta che veniva con me, quindi mi sono presa la liquidazione Tu sei magnacci con la troia? Io l'ho conosciuta oggi, non c'entro niente Se mia moglie verrà a sapere qualcosa, io vengo a Via Pompeo Magli e ti butto dalla finestra Incomodatemi, vi offro qualcosa da bere Non si disturbi, stavamo andando via E vi risentono andare retta a quella ragazza Cinque anni fa ti ho perdonato Domani mattina ti voglio fuori da questa casa Sta percorrendo Ravazzini Ti devi comprare la moto? No, vogliono costringermi a correre con la moto Io non vado neppure al motorino Fai le tue fotografie e mammigli via Io ho 35 anni, una fregna così non l'ho mai vista Non mi rompe di coglione